Oggi facciamo un esercizio di immaginazione. Com'è il DJ? Prova a visualizzarlo un po'. Uomo, giovane, bello, carino, un po' sprint, un po' brillante, sempre in movimento, sempre attivo, super confusionario, bella macchina, tutti i comfort, un casinato sempre, la mattina non esiste, sacco di soldi ma sempre squattrinato, bella vita, la sera, ristoranti, bei locali, il mare pieno di donne, sempre una donna dietro l'altra, super inaffidabile, mai la testa a posto, si gode, si fa la bella vita, ha alcool, ma sì, un po' di cocaina non guasta, sempre incasinato, sempre fuori, tutta la notte, un eterno Peter Pan, diciamo, quando fa musica, super ispirato, arriva il giorno, si sveglia, si alza dal letto di pomeriggio, va al computer, scrive, crea, produce, musica, bella, figa, giusta, fashion, eccetera, 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 questo leggo potrebbe continuare a rendire. Tutti abbiamo un'immagine del DJ, ma quanto questa corrisponde alla realtà? Lo scopriamo nel prossimo video. Grazie a tutti.